Le mie priorità nascono da quello che ho vissuto in questi 13 anni nell'amministrazione comunale, 5 in circoscrizione, 8 in consiglio comunale, di cui 2 in città metropolitana. Cito il cursus honorum perché penso che chi oggi si appresta ad andare in Regione deve sapere esattamente come funziona un quartiere, una città e una provincia. Le priorità nascono dal rapporto e dal racconto che i tanti cittadini che ho incontrato in questi anni mi hanno fatto di quello che sperano, di quello che desiderano. Innanzitutto un Piemonte inclusivo che non lascia indietro gli ultimi, beh certo gli ultimi quelli che hanno davvero bisogno di una mano, non chi vive di assistenzialismo. Un Piemonte che sappia creare opportunità di lavoro per i nostri giovani. Noi abbiamo delle università eccezionali, formiamo i nostri ragazzi e poi vanno all'estero a lavorare. Questo mi sembra assurdo e folle. E terzo un Piemonte che sappia riconoscere il grande lavoro del mondo del no profit, del mondo del volontariato che è uno degli assi portanti per cui se siamo riusciti a superare la crisi e la stiamo ancora gestendo con i propri danni e con i grandi drammi che abbiamo vissuto, ma lo dobbiamo soprattutto nel mondo del volontariato che si fa carico e si prende cura di tante persone che in questo momento vivono una difficoltà. E' un Piemonte infatti che ha molti, chiamiamoli così, scalini sociali nei quali comunque ci sono delle grosse divergenze tra chi comunque ha un lavoro e quindi riesce ad avere una vita tranquilla e chi fa difficoltà addirittura, non diciamo più ad arrivare a fine mese, ad arrivare alla fine della prima settimana dopo che ha ricevuto lo stipendio. Ecco, esiste un modo, lei ha parlato appunto di un Piemonte inclusivo, esiste un modo per aiutare in maniera concreta queste persone in un momento nel quale la parola assistenzialismo è una parola che si sente molto dire, ma è la soluzione giusta? Io penso proprio di no, io penso sempre che sia meglio un piccolo lavoro che un grande sussidio perché il lavoro porta con sé la dignità del costruire, di fare, del mettersi in gioco e il sussidio può essere un aiuto quando c'è il momento di emergenza perché noi non possiamo permettere che un padre o una madre con dei figli stiano in mezzo a una strada a vivere, che una persona con disabilità non possa avere tutte le cure e il sostegno necessario o chi si ammala non sia aiutato, custodito e sostenuto dal sistema sanitario regionale. Però poi dopo c'è il momento della ripresa, della rinascita, del rimettersi in gioco con le competenze che uno ha. Quindi è un Piemonte che deve formare le persone che perdono il lavoro col Fondo Sociale Europeo, ridare loro delle opportunità, magari aumentando le competenze di queste persone. Un Piemonte che però deve chiedere a livello nazionale che si abbassi il costo del lavoro, perché questo è il grande tema. Un imprenditore deve ricominciare ad assumere perché invece che trovarsi in uno Stato che spende miliardi e miliardi per il reddito di cittadinanza, invece abbassi il cuneo fiscale. Cioè diamo la possibilità a giovani, a lavoratori che hanno perso il lavoro di entrare nel mondo del lavoro e lo possiamo fare solo in un modo. Le leggi non creano posti di lavoro, l'abbassamento del costo del lavoro invece crea nuovi posti di lavoro. Questo è il primo dato. Il secondo dato per me molto importante è fare in modo che tutto ciò che nel privato sociale sta nascendo anche come opportunità di lavoro sia guardata con attenzione detassata dal punto di vista regionale affinché cooperative, associazioni e fondazioni che stanno rappresentando un luogo dove la gente vuole andare a lavorare possano da questo punto di vista assumere e assumere con tranquillità. Questi temi a parte, quali sono le altre priorità per il Piemonte? Da dove si parte o da dove si continua, visto che comunque lei si propone sostegno del Presidente uscente Chiamparì? Io ne vedo tre. La prima, adesso non c'è più il debito mostro lasciato dalle vecchie amministrazioni per cui si è risanato il debito della regione, ricominciare ad assumere in ambito sanitario e socioestenziale, soprattutto sanitario, giovani medici, infermieri. Noi dobbiamo, come è sempre stato, garantire un sistema sanitario pubblico d'eccellenza. Secondo dato, infrastrutture sviluppo, TAV o non TAV. E certo la TAV si deve fare, ma io voglio anche ragionare su come interconnettere la provincia di Torino di più e meglio con il resto delle regioni. Però lei la dà per scontata la realizzazione della regione sanitario. Beh, io mi auguro, non fare la TAV vuol dire tagliare fuori il Piemonte da qualsiasi tipo di ragionamento. Ma perché è sempre meglio sottolineare in questo momento. Si TAV tutta la vita, come anche si tangenziale dietro la collina di Torino, come si Genova-Rotterdam, come si a Sticuno, cioè non possiamo pensare di essere un player europeo e mondiale se ci tagliamo fuori dalle infrastrutture. Se voi pensate dove è il Piemonte, è proprio nel cuore dell'Europa. Tagliarlo fuori dall'Europa mi pare veramente assurdo. E quando dico Europa, penso anche a tutto il bacino mediterraneo, evidentemente. Quindi infrastrutture. E terzo, garantire delle opportunità vere per i nostri giovani. Quindi mettere i nostri giovani nelle condizioni di usare al meglio il sistema universitario che abbiamo, ma anche una buona formazione professionale. Don Bosco diceva che a volte uno il talento ce l'ha nelle mani. Bene, una formazione professionale d'eccellenza con degli ITS, istituti tecnici superiori d'eccellenza, cioè i master post diploma, perché solo così potremmo parlare veramente di creare posti di lavoro, avendo formato la vera unica ricchezza che il nostro paese ha, che non sono solo le nostre colline, le nostre terre, i nostri prodotti enogastronomici, ma il capitale umano delle nostre nuove generazioni. Ragazzi formati e capaci di accettare la sfida di un mercato del lavoro che è molto diverso rispetto a quello di 30-40 anni fa. A chi non volesse andare a votare, perché il fantasma stensionismo è sempre un fantasma che aleggia, forse in Piemonte un po' di meno, essendoci l'appuntamento delle regionali di molti comuni, ricordiamo, chiamati a rinnovare i consigli comunali, ma a chi, ai disinnamorati insomma della politica, cosa diciamo? Soprattutto ai giovani, ai ragazzi, magari a chi vota per la prima volta. Io dico due cose, se non vi occuperete di politica, tanto la politica si occuperà di voi e questo è un dato innegabile. Questa volta avete un'opportunità, invece che pensare a partiti, sigle, potete scrivere un cognome e scrivendo un cognome state dando ciò che avete di più caro in mano, che è la fiducia, a una persona, quella persona ha un nome, un cognome e mediamente è anche poi rintracciabile, è anche monitorabile quello che sta facendo nell'ente in cui l'avete votato o non l'avete votato. Per cui andare a votare oggi vuol dire, a differenza di quando ci sono liste bloccate di persone già nominate dai partiti, incontrare una persona come voi e mettere su di lui quella fiducia che potete avere o non avere nella politica. Bene, io ringrazio Silvio Magliano, moderati per Chiamparino, le auguro buon termine, buona volata finale di questa campagna elettorale.